Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato ai vocalizzi, siamo qui con Serenella, che ci aiuterà per la parte femminile in questo vocalizzo di oggi che secondo me è molto simpatico. Quindi ve lo faccio sentire per la parte dei maschietti, sarà così. Quindi faremo... Quindi la 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 non si ripete la dopo. Per la femminucce, la 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 Esatto. E partiamo da un suono piuttosto basso e andiamo fino a un certo punto, senza fermarci, e poi torniamo indietro. Va bene? Canta, 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 cantare in libertà andiamo quindi adesso il maschio sarà un basso farò mentre le donne faranno la 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 La, 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 la. 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. questo suono è bassissimo per noi ovviamente anche voi trovatevi la parte dove insomma è comoda una parte comoda dove cantare se il suono è troppo basso aspettate a partire quando arriva magari troppo in alto staccatevi e poi riprendete quando ce la fate anche nella discesa mi raccomando curate bene le tre note che scendono facciamo cioè prima di farlo veloce se non riuscite a fare la veloce facciamolo lento questo è un cromatismo significa che le note sono a distanza di un semitono quindi vi dico le note che suoniamo a do mi sol sol fa mi sol sol bemol e fa mi sol sol fa mi re do mi sol mi re do facciamo prima lento la 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 a poi una volta che abbiamo acquisito a lentamente e verrà anche veloce va bene? io ringrazio Serenella ma sempre grazie a te Mario per averci aiutato e vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella altrimenti non vi arrivano le notifiche e quindi noi poi ci vediamo al prossimo video ciao